... Bandiera mezzasta, teatri in lutto e iniziative di solidarietà. La Regione Marche ha voluto ricordare le vittime della strage terroristica avvenuta venerdì sera nel cuore di Parigi, dove sono rimasti coinvolti anche due senigaliesi presi in ostaggio al Bataclan e scampati alla carneficina dell'Isis. Si tratta di Laura Polloni, sottopossa ad un intervento chirurgico alla spalla, dove è stata colpita dalla scheggia di un proiettile, e di Massimiliano Natalucci, l'amico che si è ferito lievemente ad una gamba mentre cercava di scappare. In segno di solidarietà e cordoglio con il popolo francese, domenica quasi tutte le gare sportive hanno osservato il minuto di silenzio. Stessa iniziativa al Teatro Pergolesi di Iesi, prima che si alzasse il sipario per la messa in scena del Don Pasquale di Donizetti. Al termine del raccoglimento sono risuonate le note della Marsigliese e un commosso lungo applauso. Le finestre dell'edificio inoltre sono state illuminate con i colori blu, bianco e rosso della bandiera della Francia. Gli stessi colori che hanno illuminato l'arena di Macerata, dove decine di persone hanno partecipato ad un flash mob e intonato l'inno nazionale francese. Contro ogni terrorismo l'Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Cesare Battisti di Fano ha esposto la bandiera sulle pareti della scuola. È stata l'idea di un docente, di alcuni ragazzi, poi la condivisa attraverso i social media e nonostante la giornata festiva ieri sono riusciti a mobilitarsi e a preparare questa manifestazione della nostra solidarietà. La cosa più importante è però che poi nelle classi questa mattina tutti i docenti sono stati invitati a discutere di quanto è avvenuto venerdì scorso con gli studenti e cercare di farli ragionare sui principi di tolleranza, di pace e di fraternità tra i popoli, che penso che sia la cosa più importante in questo momento. Le bandiere hanno sventolato a mezz'asta in segno di lutto anche nella città di Pesaro dove nella seduta del Consiglio Comunale è stato osservato oggi un minuto di silenzio. Ieri invece la comunità fanese con il sindaco Massimo Seri è scesa in piazza tenendo in mano un fiore o una candela per rispondere alle barbarie in modo unitario con i valori della democrazia, del rispetto delle diversità culturali e religiose e delle libertà individuali. Stessa iniziativa a Urbino sabato sera dove un centinaio tra studenti e cittadini si sono dati appuntamento in piazza della Repubblica. Presenti all'evento anche il sindaco Gambini e il rettore Stocchi che insieme ai presenti dopo un momento di silenzio hanno concluso la veglia intonando Imagine di John Lennon. La canzone è diventata il simbolo di queste ore di ansia e di riflessione sull'attacco dopo che un pianista italo-tedesco ha trainato il suo strumento con una bicicletta fino al luogo del massacro. A due passi dal Bataclan e nell'aria dietro alle transenne ha cominciato a suonare inquadrato dalle telecamere di tutto il mondo. Dalle sue dita sono scaturite note di speranza davanti a quella sala concerti trasformata in un teatro di paura, sangue e violenza. Un momento commovente che ha toccato soprattutto i ragazzi sopravvissuti alla strage. Per il musicista lacrime e applausi. E la speranza che un giorno quanto immaginato da Lennon possa diventare realtà. E la speranza che un giorno quanto immaginato da Lennon possa diventare realtà.